un saluto a tutti i followers di teconair.it stiamo girando con questo video a 1080p con la fotocamera da 20.7 megapixel di Meizu MX5 iniziamo i nostri test, pan veloce facciamo un contro luce illuminazione normale messa a fuoco veloce molto bene, veramente velocissima apriamo lo zoom zoom veramente molto molto morbido quindi per questo video a 1080p con la fotocamera da 20.7 megapixel di Meizu MX5